è bello questo si ti sta veramente bene ma questo è mio e ora come ne esco da questa situazione? pensa Andrea, pensa eh Dio, aiutami ah, è mio dai Andrea, chiudi che dobbiamo andare a fare l'aperitivo dai guarda, due minuti, ho finito, andiamo dai Andrea, come è andata la giornata? che voto ti daresti? ma è andata bene, un 7 attenzione però, nulla è ancora deciso perché manca il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare la situazione ma questo come veste? beh, non è che di solito te li provi, eh però no, vabbè, non è che me li provo no, Fabio, io non ce la faccio mi vergogno, poi la gente mi prende in giro ma fidati, fidati che funziona no e questo è tuo grazie ma una curiosità mi sembra il giorno per aver aperto un'attività ma quant'anni hai? eh no, hanno 31 ma ne dimostro di meno singhle bell singhle bell di nuovo